Ecco allora come mai i nostri bambini, i maschietti, vengono costretti a truccarsi, a mettere il rossetto, non perché una maestra è impazzita, ma perché una società è impazzita, ma perché una cultura è impazzita. Le dico una cosa da padre signor Pilon, io ho un figlio di tre anni che gioca con le bambole e questa cosa non destra alcun tipo di turbamento in me e non desterebbe turbamento in me nemmeno se un giorno dovesse avvertire l'esigenza di truccarsi, di mettersi il rossetto, di mettersi lo smalto, una gonna, perché ha il diritto di esprimersi come meglio crede mio figlio. La cosa che mi destabilizzerebbe un po' è sapere che vive in uno stato che non tutela il suo sacro santo diritto di esprimersi in piena libertà, cercando di arginare le dinamiche discriminatorie e violente che molto spesso si verificano in questo paese. Questo per me è una priorità. La sapete.